Ben trovati, oggi degustiamo Sasso Grosso 2019, la malvasia di Toscana di Monterotondo. La malvasia in questo caso è vinificata solamente in acciaio e fa ombre perfilamente in bottiglia. In questo caso è la 2019. Andiamo a vedere che è un colore bello luminoso, un colore paglierino, delicato. Il naso è di un'aromaticità intensa, dotato di una nota di basilico, di salvia, e poi arriva la pera in tutta la sua magnificenza, una pera importante. Una nota tropicale ed un finale iodato, in realtà percorre tutta la degustazione. Al palato si gioca tutto sulla sapidità, una sapidità che parla di territorio, che parla di suolo, che parla dell'anima del vino. Una bella freschezza gustativa, ci aspettavamo un vino copioso e avvolgente, invece una bella durezza, un vino estremamente elegante. Lo abbiniamo con dei piatti delicati, con un aperitivo, con dei primi piatti estremamente leggeri. Una carne bianca, anch'essa delicata, un filo d'olio e basta. Alla prossima!